I poliziotti della squadra mobile, l'ufficio prevenzione generale al soccorso e la divisione di polizia amministrativa hanno eseguito un controllo del territorio disposto dal questore Gabriele Ioppolo. Hanno effettuato controlli soprattutto nell'ambito delle botti di Capodanno. Ne hanno sequestrati 24 chili detenuti legalmente, parte dei quali veri e propri esplosivi di genere pietato, ma anche sostanze stupefacenti come marijuana, cocaina e hashish per contenere assistenti quantitativi. Sono state arrestate anche due persone e denunciato una terza. In particolare i poliziotti in occasione del periodo delle festività natalizie di fine anno che vede la recrudescenza e il fenomeno della diffusione illegale dei cosiddetti botti, ovvero artifici pirotecnici che per qualità e quantità determinano l'illegalità del commercio e la detenzione, hanno effettuato perquisizione alla ricerca di materiale esplodenti in alcune aree della città. All'interno di abitazione sono stati rivenuti diversi scatoloni contenenti varie tipologie di artifici pirotecnici per un totale di quasi 22 chili di materiale esplodente detenuti senza licenza e in un luogo non idoneo, ovvero un garage vicino a complessi residenziali, determinando una pericolosità per l'incolumità pubblica degli abitanti della zona. Per questi motivi un messinesi di 66 anni, proprietario del garage, è stato denunciato a piede libera. Successivamente un'abitazione in via Algeria è sottoposto a perquisizione in assenza di qualsiasi tipo di misura di sicurezza, tale da limitarne l'altissimo grado di pericolosità, sono stati rivenuti circa 61 petardi a forma di candelotti di grossa dimensione per un complesso di carico di un chilo e mezzo, materiale esplodente non conforme alla normativa sugli esplosivi e privo di ogni etichetta identificativa che ne consentisse la classificazione. Il proprietario dell'abitazione, Mario Mazzara, 62 anni, è stato arrestato agli arresti domiciliari, sempre in via Geri, dinanzi a una palazzina. I poliziotti hanno sottoposto a controllo Giuseppe Di Maria, 51 anni, che è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente. La perquisizione nell'abitazione ha permesso di rivenire 29 grammi di cocaina, 65 di marivana e 12 grammi di hashish, tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e denaro provento ritenuto dell'attività di spaccio. L'uomo, generato delle forze di polizia, è stato arrestato per il reato di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti a su disposizione della procura, sottoposto agli arresti domiciliari.